Ancora una tragedia sul lavoro, questa volta a perdere la vita è stato un operaio marocchino di 44 anni, Saeed Ayrek, che si trovava a Mormanno in uno dei cantieri di ammodernamento della Salerno Reggio. Impiegato in una ditta di carpenteria metallica, la Cimolai S.p.A., l'uomo stava lavorando al 165esimo chilometro della Tre quando è rimasto schiacciato mentre montava una trave metallica. Questa la prima ricostruzione, ma gli accertamenti e le indagini sono in corso. Lo precisa l'ANAS, che per bocca del presidente Gianni Vittori Armani ha espresso il suo cordoglio alla famiglia dell'operaio, precisando che si era avviata un'indagine anche dalla stessa ANAS per verificare non ci siano eventuali irresponsabilità dell'impresa nel tragico incidente. Il dramma è avvenuto pochi mesi dopo un'altra morte, quella del 25enne deceduto mentre lavorava sul viadotto Italia nel comune di Lainoborgo, nel cantiere del macrolotto 3.2 della Salerno Reggio Calabria. L'operaio di nazionalità romena morì a causa del crollo di un pezzo della campata del viadotto, mentre stava con altri predisponendo i lavori per la demolizione dell'impalcato. L'uomo fu risucchiato nel vuoto.